bene allora parliamo di metamorfosi di ovidio di questo grande poeta dell'età augustea autore di uno dei grandi libri dell'europa occidentale libro influentissimo senza del quale non esisterebbe tanta letteratura successiva basti nominare dante petrarca shakespeare ma ce ne sono moltissimi altri che davvero discendono da questo importantissimo poema composto nei primi anni del primo secolo dopo cristo tra il 3 e l'otto ovidio nel 17 muore l'opera diciamo non è stata rivista però insomma era praticamente compiuta è importante tenerlo a mente perché probabilmente durante gli ultimi anni questo poema in parte diciamo già rivisto eccetera in realtà assorbe l'amarezza dell'esilio perché ovidio muore esule chi si occupa un pochino di letteratura antica sa che questo è uno dei grandi casi biografici della letteratura antica non si sa bene che cosa ovidio abbia combinato per meritare l'espulsione da roma lui che è stato un poeta importante un poeta perfettamente integrato al sistema insomma al sistema forse no però alla società che ha fatto di tutto per piacere anche all'imperatore o meglio al principe cioè ad augusto e invece a un certo punto si ritrova sulle sponde del mar nero niente meno che a tomi quindi proprio ai confini dell'impero cioè totalmente decentrato e lì muore neanche le sue ceneri tornano a roma nonostante tutti i suoi tentativi di rientrare le suppliche gli interventi di amici intermediazione della moglie e via dicendo io farò una lettura delle metamorfosi un po politica stasera così insomma sapete che se anche vi sembra magari dovrà sembrare che io divaghi invece di me non lo starò facendo anzi cerco di fare un discorso abbastanza coerente però se avete a mente questa idea no che c'è sotto un filo politico riuscite magari a seguire meglio il titolo dell'intervento mi è stato dato io sono uno di quelli che ancora accetta l'invito anche quando non è lui a decide anche quando non sono io a decidere di cosa voglio parlare credo che smetterò di farlo perché è abbastanza impegnativo è un po come fare i compiti però mi sono divertito perché ho video un mio autore non so se voi sappiate insomma cosa ho fatto in questi ultimi anni però uno dei miei libri proprio suo video devo dirvi però che rimettendomi ci sopra proprio in vista di questo intervento ho aggiunto delle cose che nel mio libro libro suo video proprio non avevo messo e forse non avevo neanche ben chiare come le ho avute per stasera quindi è bello quando qualcuno ti dice perché non ci parli di perché poi ti metti a pensare in modo diverso in modo nuovo il titolo è perché mi strappi a me stesso è una citazione dopo vediamo da che episodio delle metamorfosi pelle corpo nei miti di trasformazione le metamorfosi sono un poema molto lungo sono più lunghe delle delle neide che è il grande modello per tutti quelli che dopo virgilio hanno voluto scrivere un poema epico sono fatte di 15 libri e raccolgono un lungo patrimonio mitografico di trasformazioni si assiste a molti racconti di trasformazione poi vedremo che la trasformazione non è un solo t e di un solo tipo ci sono tante ragioni per cui si è trasformati nel quindicesimo libro evidentemente o video avverte la necessità di raccogliere tutti questi fili doveva essere un poema epico invece non lo è perché i fili sono troppi e invece il poema epico ha un fine ben chiaro una traiettoria anche divagante come è capitato ad enea che non aveva capito subito che doveva andare nel lazio però diciamo l'obiettivo si sa qual è andare da qualche parte anzi da una certa parte e lì fermarsi quindi l'epica è sempre finalistica teleologica l'epica chiude invece o video non fa che aprire addirittura i corpi umani non sono neanche più corpi umani a un certo punto quindi l'apertura è totale nel quindicesimo libro evidentemente ha bisogno di darsi un mito che raccordi tutti questi altri miti ed è un discorso che fa fare al filosofo pitagora è un discorso bellissimo uno dei passi più belli della letteratura latina è commovente il discorso di pitagora ve lo voglio leggere tutte le traduzioni che sentirete sono mie anche questi che chiamiamo elementi non durano e vi spiego state attenti le vicende che subiscono l'universo perpetuo consta di quattro principi generatori due di questi sono pesanti e il loro peso verso il basso le trascina la terra e l'acqua le altre non conoscono gravità e se nulla le schiaccia vanno verso l'alto l'aria e più puro dell'aria il fuoco questi uno spazio separa eppure tutto di lì si crea e lì stesso torna in acqua chiara si rarefà sciolta la terra affinandosi il liquido diventa alito ed aria e tolto il peso l'aria finissima risale fiammeggiando quindi tornano indietro si ritesse al contrario il medesimo processo il fuoco si raddensa infatti in aria questa in l'acqua s'aggruma in terra l'onda e non dura l'aspetto di ciascuno rinnovatrice la natura scambia questa forma con quella e nulla muore credetemi nell'universo intero bensì varia e si rinnova e rinnova la sua faccia nascere è detto cominciare ad essere altro da quello che si era e morire smettere smettere d'essere identico sposta pure qui quello e lì questo la somma totale tiene a mio parere cosa non c'è che possa a lungo mantenere la medesima immagine dall'oro così passaste generazioni al ferro così è cambiato tante volte il volto dei luoghi io stesso ho visto mare dove un tempo si trovava duro suolo e onde ho visto divenute terre e conchiglie depositate molto lontane dalla spiaggia e in vetta un monte si è trovata un'antica ancora e il corso delle acque ha fatto valli di pianure e le alluvioni monti hanno ridotto a mari e suoli paludosi sono arena secca ed altri che la sete pativano ristagnano in pantani qui la natura nuove fonti ha aperto e linea chiuse e smossi dai sussulti del sottosuolo prorompono fiumi o si infossano e più non li si vede queste metamorfosi 15 237 272 vedete che è un tentativo filosofico no di riepilogare le ragioni di questa incessante mutazione che tutto avvolge si parla proprio di fossili addirittura a un certo punto no cioè nulla si salva possiamo dire dalla trasformazione il che significa che non c'è morte tutto è in un continuo fluire di vita questo è un bellissimo ovviamente argomento se vogliamo un'altra versione del grande materialismo antico che già si vede in lucrezio molto bene però diciamo questo consuntivo filosofico che diciamo tiene insieme tutti i 14 libri precedenti e elimina un po' di quell'impressionismo e di quella frammentarietà questo consuntivo convince fino a un certo punto perché è vero che siamo arrivati al quindicesimo libro ma fino a quel momento non abbiamo avuto altro che trasformazioni individuali continue sorprendenti bislacche che riguardano il singolo non riguardano fiumi mari arri a fuoco gli elementi cioè la trasformazione fondamentalmente per ovidio riguarda l'individuo il discorso di pitagora ripeto è meraviglioso ma è come aggiunto a giustificazione teorica e anche un po' fuorviante di un discorso in realtà diverso che è di natura politica come vedremo vabbè quindi diciamo figuratevi abbiamo 250 si sono contate trasformazioni semplifico le ho lette tante volte queste trasformazioni un pochino le sento insomma familiari anche se ogni volta che rileggo il poema e lo riletto anche per stasera ho visto tante cose nuove diciamo che queste trasformazioni avvengono per intervento di una forza superiore questa forza superiore tende a essere la divinità una divinità ci sono dei che intervengono più di altri per esempio giove ed apollo che non a caso sono anche maschere propagandistiche di augusto augusto è spesso identificato con giove o con apollo nelle poesie che ovidio scrive nelle durante l'esilio parla di augusto proprio come di giove però esiste anche proprio tutta una propaganda pollinea sulla figura di augusto si può anche cambiare forma all'improvviso per un incremento di passione o per un eccesso emotivo che può essere un dolore estremo la gelosia insomma una di quelle situazioni di destabilizzante patimento sono casi meno numerosi degli altri soffermiamoci perché secondo me questo è il clou del discorso di ovidio sui interventi divini e gli dei come intervengono perché trasformano a un certo punto la figura umana perché la fanno diventare altro loro stessi tra parentesi ogni tanto si trasformano però le trasformazioni degli dei sono sempre momentanee e hanno sempre un secondo fine sono ingannevoli quindi un dio non è che si trasforma una volta per tutte parentesi nella parentesi a volte anche gli esseri umani possono recuperare la forma originaria ma in pochissimi casi in pochissimi casi nella stragrande maggioranza dei casi si è trasformati e lì si resta cioè si è eternati in quella forma gli dei intervengono per due ragioni per castigare cioè per punire ed è quello che accade nella maggioranza dei casi o per premiare cioè ci sono anche delle trasformazioni diciamo benevole positive benefiche salvifiche addirittura ne vedremo una sul finire che è davvero importante quella di dafne la ninfa che viene trasformata in pianta di alloro per intervento di una divinità che poi è suo padre il dio fluviale la trasformazione accade repentinamente e lasciamo per un attimo perdere gli dei poi ovviamente ci torneremo ma com'è possibile che ci si possa trasformare che cosa ci sta dietro a un discorso del genere sì ci sta una lunga tradizione greca ma ovidio è molto originale sempre no ha delle fonti che purtroppo a noi in gran parte sono sconosciute perché la letteratura greca sulle metamorfosi purtroppo è naufragata come tante altre cose però c'è una cosa da tenere ben chiara cioè che il corpo in ovidio non è un principio di identità il corpo fisico cioè tutte queste metamorfosi alla fine ci dicono che il corpo è instabile che il corpo è spazio conteso e si contendono che cosa si contendono è la libertà individuale e l'impero della legge l'istinto e il castigo e laddove interviene la legge divina ma presto capirete augustea il corpo è destinato a perdersi a distruggersi a vanificarsi quindi fatemi già riassumere quello a cui sono arrivato dopo insomma parecchi giorni di riflessione parliamo del corpo secondo video come di un corpo politico quindi negoziabile castigabile dissolubile ma proprio perché politico anarchico eversivo martire la stessa terminologia cioè lo stesso vocabolario che ovidio utilizza per indicare il corpo umano è molto chiamiamola fluida come piace a tutti ormai dire un aggettivo che credo di non aver mai usato prima di stasera cioè sì c'è corpus ovviamente così facciamo un po di latino anche corpus che è la parola più indicizzata tra quelle che indicano l'aspetto fisico se ne hanno quante occorrenze ne ho contate pari 250 266 abbiamo membra che è un plurale neutro di membrum se vi ricordate un po di latino 65 occorrenze quindi molto meno e poi lacrum sono tutte parole che indicano non quello che il corpo è ma quello che il corpo appare perché un corpo è sempre qualcosa che appare non qualcosa che ha una sua consistenza diciamo ontologica il corpo è lì per dissolversi è inevitabile succederà allora forma è la parola di quelle che vi ho detto adesso più ricorrente forse ricorderete che forma in latino significa anche bellezza e in italiano formosus in latino non vuol dire formoso ma vuol dire bello ed è rimasto nello spagnolo hermoso no hermoso viene da formosus l'ambiguità c'è in latino spesso quasi sempre in ovidio forma è il contorno no io vedo adesso davanti a me corpora certo 1 2 3 4 5 carne membra però vedo anche forma e cioè dei contorni poi però forma come ho detto vuol dire anche bellezza per esempio nell'episodio arcinoto di narciso quello che insomma non riesce a staccarsi dallo specchio perché si è innamorato dell'immagine riflessa di se stesso si parla di forma e lì è molto difficile tradurre perché si è la forma riflessa ma è anche la bellezza che di cui narciso è schiavo e prigioniero figura va con che ovviamente dall'italiano figura no poi tutte le parole anche francese inglese eccetera figura una parola molto bella che in in ovidio ancora grande risonanza etimologica perché fig viene da fingo che vuol dire modellare quindi figura non è soltanto il contorno ma il modo in cui un aspetto è costruito è la costruzione del nostro corpo quindi tutti abbiamo una forma perché abbiamo dei contorni quindi se tu vedi qualcuno contro luce tu vedi una forma non vedi una figura la figura la vedi se togliamo il contrasto luce ombra e allora vedo che gli occhi sono in una certa posizione il naso eccetera eccetera e ognuno ovviamente è la conformazione se vogliamo la figura species è il modo in cui tu mi appari infatti la radice spec spec da cui specchio speculum eccetera lo troviamo nel verbo ad spiccio che vuol dire guardare aspetto specie se proprio l'aspetto quello che quello che appare non la faccio lunga tra l'altro queste cose le ho anche un po' già raccontate nel mio libro suo video che feci uscire nel 2017 proprio per il bimillenario della morte e poi c'è simulacrum però questo in questo invece va va ricordato perché vedete simulacrum da cui il nostro italiano simulacro simulacrum alla radice della di similis quindi è una è una somiglianza una somiglianza vana fuggevole è spesso il fantasma quindi un impressione di presenza ma non una vera presenza infatti spesso la parola che non è molto indicizzata però comunque presente indica parvenze labili spettrali non ho ancora detto e poi chiudo con questo piccolo elenco lessicale imago imago d'onde immagine no tra l'altro la parola è rimasta anche nella nostra tradizione alta forse perché della fatale quiete tu sei l'imago no vi ricordate foscolo imago vuol dire copia vedete che ha la radice di imitare però in ovidio è una parola importantissima perché poi ogni poeta fa delle parole quello che vuole farne e in ovidio imago è quasi sempre termine diciamo negativo perché è sempre un'immagine fallace quindi si deve sempre presupporre che un imago abbia una un originale che però non appare e quindi è sempre immagine forviante copia può significare anche opera d'arte quando è usata in un senso diciamo positivo ma il più delle volte dove c'è imago non si tratta soltanto di un'immagine ma di un'immagine menzognera di un'immagine sbagliata ecco tutte queste parole vedete certo lì ci sono anche esigenze di metrica naturalmente per cui il poeta magari una volta ne vuole una piuttosto che un'altra però in realtà ovidio è molto coerente e tutte queste parole hanno sempre la loro connotazione io l'ho studiate abbastanza bene l'una una per una e c'è davvero una coerenza semantica tutte ci dicono che appunto in corpus passa il corpo va ma non solo con la morte no è sempre in una condizione di inconoscibilità allora ma vediamo i vari tipi di metamorfosi ma poi arriviamo a quelle che ci interessano davvero e in particolare a due quella che da cui è tratto il verso che fa da da titolo a questo intervento e poi quella di dafne come per chiudere ci sono corpi che mutano in corpi d'altra specie e sono la maggioranza la gran parte di queste trasformazioni che leggiamo nelle metamorfosi ci fanno vedere un corpo umano che diventa animale corpi che svaniscono non ce ne sono tanti il più famoso è quello di eco la ninfa eco che si strugge si strugge si strugge si strugge fino a diventare soltanto voce tutti i miti meravigliosi questi qua tutti i miti indimenticabili corpi che si fondono anche questi non insomma non avete il caso di salmacide ed ermafrodito quindi nasce un altro corpo da due corpi corpi che ringiovaniscono anche quella è una grande metamorfosi no ritrovarsi ventenne da settantenne che si era non ce ne sono tanti di casi così a un certo punto in realtà è perché ho video anche molto spirituoso a un certo punto gli dei dicono no ma scusa ma se ce l'ha fatto ce l'ha fatta lui a ritornare allora anche io voglio ridare la giovine insomma a un certo punto qualcuno interviene dice sentite piantatela perché se cominciamo a restituire la giovinezza tutti quanti non si capisce più niente e quindi i casi di ringiovanimento rimangono fondamentalmente due neocontati corpi che si divinizzano in genere le metamorfosi sono degli abbassamenti nella scala dell'essere cioè da essere umano ti ritrovi ragno ti ritrovi pietra ti ritrovi sì anche lago fiume addirittura isola a un certo punto anche perché le dimensioni non non si corrispondono mai no invece ci sono rari però anche dei casi in cui l'essere umano passa a diventare nume a divinità sono i casi in cui la divinità ovviamente ti premia non quelli in cui ti castiga poi ci sono anche questi rari corpi che possono passare liberamente da una forma all'altra cioè che non è che una volta che si sono mutati li rimangono possono rimutarsi e rimutarsi e tornare alla forma originaria a loro piacimento ci sono cambiamenti di sesso ce ne sono almeno due famosi tutti questi miti ognuno ovviamente meriterebbe di essere illustrato così individualmente comunque ricordo ben due miti ce n'è uno molto bello il mito di Ifide che nasce bambina però il papà aveva detto cioè il papà di questo di questo neonato anzi neonata aveva detto alla moglie se fai una bambina devi ucciderla perché noi abbiamo bisogno di un bambino la madre non uccide la piccola ma la tira su come se fosse un maschio e arriva il giorno in cui Ifide si fidanza con un'altra bambina con un'altra ragazza lì poi sapete ci si sposava presto a 13 anni le ragazze erano già pronte per magari non per partorire ma sicuramente per diventare mogli e qui insomma si arriva al re der azione cioè si capirà che sto Ifide non è sto Ifide ma è sta Ifide e in realtà succede un miracolo perché proprio dopo il matrimonio lei si ritrova dotata di quello che mancava perché fosse maschio vabbè vi ho detto un po' la casistica delle trasformazioni a noi però dicevo interessa soprattutto l'aspetto politico di queste trasformazioni cioè quelle trasformazioni dove è chiaro che Ovidio ci sta dicendo che il corpo è sottratto alla sua apparente identità da una volontà repressiva quindi da Augusto cioè proprio quell'Augusto che condanna Ovidio stesso all'esilio dunque leggiamo Giove leggiamo Apollo ma in realtà dobbiamo intendere Augusto prendiamo appunto l'episodio di Marsia quello da cui è tratto il verso perché mi strappi a me stesso chi è Marsia? Marsia siamo nel sesto libro i versi non sono tanti versi si va dal 383 al 400 quindi 17 versi eppure un episodio che ha fatto storia anche perché Dante cita Marsia all'inizio del paradiso interessante la rilettura che Dante fa dell'episodio comunque stiamo con Ovidio Marsia chi è? Marsia è un satiro come tutti i satiri suona ed è un bravissimo musico sappiamo tante cose di questo satiro anche da altre fonti Ovidio non ci dice molto di Marsia ci dice questo un altro si ricorda del satiro che il figlio di Latona cioè Apollo vinse al flauto e punì tutto quello che ci dice Ovidio è vinse al flauto e punì da altre fonti noi sentiamo invece che era stato Marsia a sfidare il dio quindi un caso di hubris di tracotanza di arroganza umana a dire al dio come ce ne sono altri nelle metamorfosi per esempio Aracne che sfida Minerva in una gara di tessitura in effetti Aracne è bravissima è bravissima e le sue tele sono meravigliose tra l'altro che cosa tesse Aracne delle metamorfosi quindi è proprio un doppio di Ovidio in questo caso invece Ovidio è molto omissivo cioè non ci dice che Marsia ha sfidato Apollo né ci dice che Apollo abbia sfidato Marsia come invece altre fonti ci dicono omette praticamente tutto il contesto ci dice soltanto che Apollo l'ha vinto in una gara musicale al flauto in realtà Apollo non suona il flauto ma la cetra ma neanche questo raccontato da Ovidio e che poi l'ha punito perché mi strappi a me dice ah mi pento ah un flauto tanto non vale grida e mentre grida via la pelle d'arto in arto gli è strappata diventa una ferita sola il sangue cola ovunque scoperti stanno i nervi tremule senza protezione palpitano le vene su soltanti gli potresti contare i visceri le fibre in petto trasparenti scusate qui però il latino ve lo devo leggere perché è magnifico non lo leggo in metrica anche se insomma sono esametri comunque non niente di chissà quanto ricercato però dopo se no uno smarrisce le parole individualmente dice quid me mi detrais detrais perché mi strappi a me inquit ah piget piget è il verbo che vuol dire mi dispiace sto male mi pe ma non è un pentirsi comunque vabbè ah non est clamabat tibia tibia è il flauto tanti genitivo di valore no un flauto non vale stafatist 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 cioè proprio dalla superficie gli viene strappato nec quicquam nisi vulnus erat cioè in medrica sarebbe nec quicquam nisi vulnus erat ma facciamo ridere i polli a leggere così non so perché la scuola continua a insegnare queste cose bisogna sapere come è fatto un esametro ma questa lettura distrugge le parole cruor undique manat cruor è il sangue vivo undique è un lago di sangue quest'uomo cioè questo satiro detectique patent nervi detecti scoperti patent stanno aperti i nervi trepideque sine ulla pelle senza alcuna pelle micant palpitano vene è chiarissimo anche per chi non sapesse un po' di latino queste parole già parlano moltissimo salientia cioè palpitanti viscera possis potresti et perlucentes numerare in pectore fibras potentissimo allora questo è un episodio particolarmente importante perché abbiamo un dio che punisce un essere inferiore non è un umano però è un essere sicuramente più basso nella scala così ontologica ma non solo non è solo un episodio importante paradigmatico per questo abbiamo un dio che punisce un poeta perché un satiro in quanto musico è poeta nella punizione di marcia ovidio ha rappresentato il brutto sogno della propria disgrazia cioè la condizione del poeta dissidente del poeta non allineato del poeta che tira la corda e che prima o poi augusto finirà per estromettere per cacciare da roma cioè dal suo stesso essere la colpa di marcia infatti l'ho già detto non è affatto specificata in questo passo lui lo dice ma perché mi strappi a me ci sono i commentatori che non hanno capito alcuni poi magari ce ne sono insomma c'è talmente tanta bibliografia suo video non l'ho potuta certo controllare tutta però i più accreditati dicono ma che domanda retorica a Ovidio poverino si fanno sempre un sacco di rimproveri gli si dà sempre del retore vuoto adesso meno per fortuna è un poeta importantissimo e lo si sta capendo anche nelle scuole nelle università però anche i commentatori che vanno proprio a vedere ogni parola e ogni verso dicono ma insomma questo qui sta morendo scorticato e Ovidio gli fa dire quid me mi de trais ma certo che deve farglielo dire perché è incomprensibile quello che Apollo gli sta facendo così come è incomprensibile quella sensazione di inappartenenza in cui vive l'Ovidio degli anni delle metamorfosi io sarei quasi tentato ma non c'è modo di dimostrarlo di di ma così tra amici si può fare di suggerire che l'episodio di Marzia sia stato aggiunto durante l'esilio così come sicuramente è stato aggiunto durante l'esilio il finale delle metamorfosi che dopo che dopo vediamo quindi la colpa di Marzia non è specificata e vi ho detto che invece altre fonti dicono che l'ha sfidato cioè Ovidio non parla di sfida cioè non parla di un Marzia arrogante di un di un Marzia colpevole di Ubris non lo fa racconta solo che Marzia è stato battuto nella gara del flauto e che il supplizio gli è risultato ingiusto perché mi strappi a me perché Marzia colpevole o no che sia è staccato da se stesso è tolto alla sua stessa carne la punizione di Marzia però non è una vera e propria metamorfosi cioè figura nei racconti delle metamorfosi ma non è una metamorfosi è un supplizio è una è uno scorticamento ma non è una metamorfosi non c'è metamorfosi dunque nel caso di Marzia si arriva è interessante noi prendiamo sempre Marzia come un esempio di metamorfizzato no lui non è metamorfizzato per niente è semplicemente dilaniato torturato distrutto scorticato la metamorfosi la metamorfosi riguarda il pianto che i suoi amici satiri ninfe il suo amato Olimpo è un giovinetto che anche altre fonti raccontano essere stato particolarmente caro o come allievo o come amasi o a a Marzia ecco tutti questi qui piangono fiumi di lacrime che diventano un fiume allora la metamorfosi avviene lì Marzia è appunto trucidato da Apollo tra l'altro diventerà un tema ricorrente nella storia dell'arte moltissimi dipinti lo hanno rappresentato statue antiche ne ho appena vista tra l'altro una a Milano nei Marmi Torlonia c'è proprio un bellissimo Marzia piacerà moltissimo anche al Michelangelo dell'autoritratto nella Cappella Sestina vi ricordate che c'è un autoritratto di una pelle penzoloni che è la faccia di Michelangelo come Marzia sì sì è un grande mito questo qua quindi il pianto diventa fiume e solo allora questa è un'altra cosa molto interessante viene detto il nome di chi è stato trattato in quel modo Marzia è la prima volta che il nome compare cioè il nome tenetelo a mente perché il nome poi sarà quello su quale voglio concludere il mio intervento il nome salta fuori quando il corpo a cui appartiene è ormai disintegrato cioè cosa resta di Marzia che fino oggi fino oggi scusate fino al momento del pianto dei suoi amici non è stato mai nominato non è stato mai chiamato cosa resta il nome quindi Marzia viene nominato nel momento in cui smette di essere un corpo e diventa invece l'effetto doloroso dei suoi amici ho detto non è una metamorfosi il trucidamento diciamo di Marzia però ci aiuta a capire il senso profondo della maggior parte delle metamorfosi di questo poema cioè sono tutti atti di prepotenza divina o fuori di metafora di sopraffazione politica atti incomprensibili che hanno il solo scopo di togliere la parola ai poeti la colpa di Marzia è di aver suonato troppo bene il suo flauto la colpa di Ovidio è di aver fatto un poema troppo bello e inaccettabile per Augusto si dice sempre che lui è stato mandato che lui ce lo fa credere con alcune legie dell'esilio che lui in realtà si sia macchiato di colpa per aver scritto Lars Amatoria insomma in realtà Lars Amatoria risale a molti anni molti anni prima è una cosa giovanile e questo Augusto lo manda in esilio all'indomani delle metamorfosi è chiaro che sono le metamorfosi quelle che che Augusto non digerisce ma queste sopraffazioni questa sopraffazione di Augusto alla fine riesce o no? no è no perché il nome di Marsi è dura Marsi resta non il corpo ma il nome sì e resta grazie alla bontà di chi lo ama dei satiri delle ninfe di Olimpo ecco proprio nel nome Ovidio colloca l'essenza ultima dell'individuo abbiamo già detto il corpo è lì per dissolversi ma c'è qualcosa che potrebbe non dissolversi e anzi inglobare tutta la forza del corpo è il nome tra l'altro sul nome suo proprio anche Ovidio ha parlato a lungo cioè a lungo in tanti punti della sua opera nel mio libro avevo fatto un capitolo sul nome di Ovidio su come Ovidio tratti il proprio nome vabbè se vi interessa potete trovare le mie considerazioni lì solo per dirvi che c'è una poetica del nome in Ovidio che va anche al di là delle metamorfosi ed è un tema importantissimo proprio sull'identità del singolo dell'individuo il tempo stringe quindi vi devo saltare tante belle cose sui nomi che possono essere anche ambigui forvianti cioè io voglio lasciarvi con l'idea che il nome alla fine sia il vero corpo dell'individuo quindi tutti questi corpi dissolti trasformati dilaniati eccetera eccetera possono in realtà durare se dura il loro nome cioè il nome praticamente la fa da corpo ci sono però anche degli esempi che sembrano un po' contraddire quello che io dico sono poco numerosi però ci sono anche dei casi in cui il nome è forviante cioè non corrisponde a un'identità vabbè comunque sono dico casi molto limitati io ne ho raccolto invece moltissimi casi proprio in vista di questo incontro in cui seguita la trasformazione quindi mutato completamente il corpo umano in altro che tu dici vabbè questa rupe era un essere umano questa questo questa isola era un essere umano però quella cosa irriconoscibile ha ancora il nome che aveva la persona quindi quelli sono proprio casi evidentissimi in cui c'è una continuità fortissima del nome nonostante la cesura della metamorfosi e vabbè anche qui non c'ho tanto tempo adesso per farvi gli esempi ma ce ne sono alcuni veramente stupendi avete capito che io ho molta simpatia per questo per questo poeta che è sempre molto generoso con i suoi lettori e con i suoi studiosi beh vi voglio sì un nome ve lo voglio dire quello della ninfa siringa la ninfa siringa è amata da Apollo scusate no è amata da Pan perdonatemi è amata da Pan ma non vuole contraccambiarlo esattamente come Daphne non vuole contraccambiare Apollo e quando Pan la raggiunge lei si è trasformata in canna cosa fa Pan la consacra questa canna e la fa diventare uno strumento musicale cioè il flauto il flauto il flauto di Pan no ve li ricordate con canne degradanti è un mito che a me è molto molto caro anche perché Debussy ha scritto dei pezzi musicali ispirati a siringa sirings e ne parlo anche in un mio libro recente che è dedicato a una persona che non c'è più e che si intitola Nicolà e in quel libro il mito di siringa torna molto importante per la mia narrazione quindi sono molto molto legato a Ovidio anche per queste cose arriviamo al nome corpo perdonate o corpo nome più importante quello di Ovidio perché lì dovevamo arrivare e leggiamo proprio la conclusione del poema un'opera ho compiuto che né l'ira di Giove potrà abbattere né il fuoco né il ferro né il vorace tempo quando vorrà quel giorno che su questo corpo solo ha diritto cioè il giorno della morte dia fine allo spazio di un'incerta esistenza ma sì moriamo che il tempo si prenda il mio che la morte si prende il corpo con la parte migliore di me mi alzerò perenne tra gli astri avrò incancellabile nome e in ogni terra in cui Roma ha potere mi leggerà la bocca della gente e di fama nei secoli futuri se il vero vede un poeta vivrò vedete che in questi versi che mi commuovono sempre corpus e nomen sono chiaramente contrapposti il corpo se ne andrà il nome no il nome resterà ora proprio preparandomi per questo incontro e rileggendo il poema dalla prima all'ultima riga dal primo all'ultimo verso ho notato che questa parte migliore che lo farà durare questo salire agli astri lui li ha già trattati raccontando di Ercole cioè dentro le metamorfosi quelle stesse espressioni quella stessa capacità di eternarsi le aveva già attribuite a Ercole il quale muore malamente perché Dejanira è convinta che lui si sia innamorato di un'altra di Iole e allora Dejanira gli manda in regalo un manto che si è inzuppato del sangue di Nesso il centauro è convinta che questo manto sia afrodisiaco quindi dice ma mandiamogli insomma uno stimolo al desiderio in realtà il sangue di Nesso è velenoso quindi come Ercole si avvolge in questo manto viene avvolto in una morsa mortale corroso fino alle midolla e ancora vivo viene messo sulla pira dove il suo corpo viene bruciato e così diciamo il corpo si consuma ma siccome lui è figlio anche di Giove la parte migliore quella che proprio Ovidio nomina parlando di se stesso anche sale al cielo agli astri la stessa cosa che dirà di se Ovidio in quel bellissimo finale e quindi il nome rimane lui sopravvive alla sua morte fisica quindi abbiamo capito che il nome è il vero corpo abbiamo capito che Ovidio sotto molti di questi miti sta parlando della condizione del poeta della condizione difficile di un poeta di tempi duri anche se il regime augustio naturalmente è passato come l'età aurea di Roma anche grazie a tutta la sua autocelebrazione grazie a tutta la propaganda dei poeti stessi però sottilissima è in Ovidio la dissidenza l'antipropaganda e la celebrazione del poeta come voce di dissenso e quindi è lì che secondo me alla fine questa serata ci porta questa conversazione cioè a scoprire nel corpo nome nel corpus nomen del poeta il senso ultimo delle metamorfosi vi ho mostrato ma potrei farvelo vedere veramente al millimetro questa corrispondenza col passo su Ercole c'è anche un'altra corrispondenza bellissima con il passo su Ulisse a un certo punto si parla anche di Ulisse se ne parla molto nel tredicesimo libro verso la fine delle metamorfosi Ovidio cita moltissimo da Omero e cita moltissimo anche da Virgilio come se stesse tentando di epicizzare con questi grandi capostipiti un testo che epico come ho detto subito stasera non riesce ad essere che cosa racconta di Ulisse racconta che Ulisse è noto il mito si contende le armi di Achille con Ajace a chi finiscono le armi di Achille quindi del massimo eroe greco a un guerriero cioè Ajace o a un uomo astuto che sa parlare molto bene finiscono all'uomo che sa parlare molto bene finiscono a Ulisse Ulisse è un altro doppio di Ovidio cioè in una in un passo in cui si gioca un duello tra il guerriero forte tutto corpo corpus lo dice chiaramente Ovidio e un altro che si sa fare la guerra ma più col pensiero più con l'animus vince quello che è animus allora queste distinzioni terminologiche che sono essenziali o veramente ci sfugge l'astuzia polemica e critica con cui Ovidio sta costruendo il proprio autoritratto vi ricordate come fa il primo verso dell'evitamorfosi in latino in nova fertanimus eccetera eccetera cioè l'animus che significa il pensiero l'immaginazione tutti sbagliano la traduzione di quell'animus cioè tutte le traduzioni che trovate in libreria sono tutte sbagliate perché dobbiamo capire che quell'animus è l'opposto del corpus guerriero è l'animus di Ulisse cioè l'immaginazione di Ovidio Ulissiaco cioè di quello Ovidio che rifiuta l'epica augustea il trionfalismo virgiliano e dice basta con tutti sti corpora con sti aiaci con con questa militare epica che non mi appartiene la mia epica è quella dell'animus vabbè potremmo stare ore su questa fantastica coincidenza poi c'è anche un altro passo interessante dove si parla di Achille altro grande eroe e anche lì c'è una somiglianza con con quella parte finale delle delle metamorfosi perché dice sì tutti tutti dobbiamo morire tutti finiamo cenere con incluso uno come Achille cinis proprio dice è cenere at vivit ma la sua gloria vive at vivit se vogliamo leggere il dattilo iniziale del verso cosa vi ho appena letto che l'ultima parola del poema è vivam io vivrò è il verbo che usa per la gloria di Achille quindi vedete che c'è una eroi auto eroicizzazione di Ovidio attraverso l'esempio di Ulisse attraverso l'esempio di Ercole attraverso l'esempio di Achille un po' più sottile ma anche quella importante con quel vivit che diventerà vivam alla fine ma non è più l'eroe epico non è più l'eroe del corpus ma qual è Ajace chiaramente nel discorso di Ulisse nel tredicesimo ma è l'eroe dell'animus in nova ferta animut eccetera eccetera tre minuti non sto sforando se avete pazienza vi chiudo con un episodio importantissimo la trasformazione di Daphne in alloro nella pianta dell'alloro nell'auro questo mito io amo a questo punto leggerlo come proprio l'altra faccia di Marsia ecco in Marsia c'è il poeta soccombente sì d'accordo il fiume prenderà il suo nome quindi si soccombe nel caso di Daphne invece abbiamo davvero il poeta scusate il personaggio Daphne non è come Marsia non è una però comunque con la poesia c'entra perché poi il lauro diventerà appunto la pianta dei poeti oltre che dei guerrieri quindi ancora una volta epica guerriera ed epica invece non militaresca Daphne è una vera e propria femminista non vuole famiglia non vuole figli non vuole Apollo che si è innamorato di lei ma il dio amore ha colpito lui con la freccia che ti fa innamorare perdutamente e lei con la freccia che non ti fa amare per nulla chi ti ama insomma negli anni in cui la politica matrimoniale di Augusto così regolartrice così no conformista diceva che tutte le matrone dovevano starsene a casa a far figli e fare le buone mogli una Daphne che notate è uno dei primi personaggi che incontriamo è una delle prime metamorfosi che incontriamo propriamente la terza doveva essersi vista come veramente una grande come dire terrorista una grande contestatrice e allora due proprio parole due versi dalla parte di Daphne che apposta ho tradotto per questa serata e Apollo il passo è molto lungo vediamo di prendere un passo insomma come quando cane di gallia vede l'epre in campo aperto e l'uno cerca nella corsa la preda l'altra la salvezza e questo non molla e già gli pare di tenerla e protendendo il muso le sta addosso l'altra non sa se sia già presa e ai morsi si sottrae e schiva la pressante bocca così il nome è la vergine lui svelto per la speranza lei per la paura uno degli inseguimenti più famosi della storia della letteratura che poi Petrarca riprenderà nel canzoniere però l'inseguitore è più veloce grazie alle ali d'amore e non dà tregua ed è alle spalle della fuggitiva e fiata sui capelli per il collo sparsi lei fiacca impallidisce e vinta dalla fatica della corsa guarda le onde del peneo il fiume che è poi suo padre e dice aiuto padre se a voi fiumi potere è dato togli mutando questa forma per cui troppo piacqui e come finisce la preghiera un pesante torpore invade gli arti sottile scorza cinge l'interiora in fronde crescono i capelli in rami le braccia il piede già tanto veloce mette pigre radici il viso è cima solo la grazia le rimane febo l'ama anche così e posata la destra sul tronco sente ancora trepidare nella nuova corteccia il petto e abbraccia come fossero membra i rami e bacia il legno e il legno scansa tuttavia i baci questa non si piega neanche trasformata Apollo dirà vi salto la lettura ti consacro sarai sugli strumenti musicali sarai sui miei capelli sarai insomma proteggerai guerrieri e poeti e quindi vedete che ancora una volta i poeti e i guerrieri vengono messi vicino e proteggerai la casa di Augusto è interessante questo richiamo ad Augusto proprio molto rivelatore e addirittura proteggerai la quercia che sta nel palazzo d'Augusto ora dalla quercia che sta nel palazzo d'Augusto si ricavava la corona civile che è un'insegna del potere ed è un'insegna di grande prestigio come dire è più importante la poesia dell'imperatore ecco la metamorfosi di Daphne è un esempio antitetico e complementare a quello di Marsia il dio coinvolto l'avete capito è lo stesso esattamente lo stesso con Daphne però Apollo non la spunta certo non la spunta neanche con il satiro perché abbiamo visto che insomma il nome del satiro si perpetua grazie al pianto di coloro che lo amavano a Daphne il dio non riesce neppure a toccare il corpo perché quando la raggiunge lei è già diventata albero e allora lui non può far altro che inchinarsi davanti al prezioso legno e proclamarlo pianta sacra pensate Apollo afferma che il lauro sorveglierà perfino la casa d'Augusto farà da guardia la stessa quercia eccetera eccetera insomma ce ne vuole dell'audacia a scrivere questi versi e chissà che non siano stati proprio questi a farlo partire per Thomas poveretto ma la cosa più interessante è che il lauro è sia la pianta dei guerrieri sia dei poeti quindi nel nome di Daphne questi due esempi scusate questi due campi antitetici la guerra e la poesia Ovidio li equipara e possiamo essere sicuri che dia dalla sua preferenza alla seconda alla poesia cioè alla libertà di dire no grazie 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 grazie